Ciao a tutti bella raga, oggi siamo il video Ragazzi, oggi siamo venuti al podere Ora siamo qua nella stalla E ci sono nati i pulcini ragazzi Quanto ci mettono nascheri dall'incubatrice? Allora, all'incirca ci hanno 21 giorni Però non è che sono proprio 21-21 Magari quelli dipende dal guscio Tipo il guscio Marans, che è quello scuro color cioccolato È un po' più duro e quindi magari ci metterà 25 giorni, 24, un po' di più E invece quelli che sono i gusci un po' più morbidi Ci mettono 20 giorni Quindi in media sono dai 20 ai 25 Ok ragazzi, qua noi ci sono nati Marans e Aurucane E poi altre razze che sono in croci Niente, questi qua ragazzi ci sono nati da un giorno E poi nell'incubatrice ce ne sono altri che ora toglieremo Allora ragazzi, poi ai pulcini cosa serve? Allora ragazzi, poi qua ora che abbiamo tirato fuori ci dovrebbero essere due Marans E poi tutti gli altri dovrebbero essere tutti incroci Allora, questo qua ragazzi è un incrocio C'è la coda nera E poi c'è la coda nera E ragazzi, come fare a riconoscere magari Marans e i pulcini? Allora, i Marans hanno le zampe piumate Vedete? Ok, e quando hanno le zampe piumate ragazzi sono i Marans Ok dai, ora andiamo a prendere gli altri Allora ragazzi, ora qua ci abbiamo l'incubatrice Ci sono ancora dei pulcini dentro che si chiedono Cioè, delle uova che si devono ancora schiudere E però ci sono anche dei pulcini che sono nati Allora ragazzi, dobbiamo pigliare solamente i pulcini che sono pienamente asciutti Perché quando escono dal guscio sono bagnati E ragazzi, c'è il rischio che quando li togliamo prenda un freddo e muoio Allora, apriamo Allora ragazzi, ora abbiamo l'incubatrice di pulcini E cosa serve ragazzi per far crescere i pulcini appena nati? Allora ragazzi, intanto mangime Primo periodo, che era circa i primi mesi Acqua E ragazzi, su un litro d'acqua ci dovete mettere un cucchiaino di aceto di mene E poi ragazzi noi mettiamo i truccioli Che ogni tot cambiamo quando si sporca Poi ragazzi, noi ci abbiamo anche una lampada riscaldante Perché i pulcini devono stare al caldo Vi potete anche mettere vicino alla stufa Come abbiamo fatto noi E poi ci metteremo la lampada riscaldante Ok E Ragazzi, guardate Questo qua Secondo me è uno dei più belli Così Così qui Questi, 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 questi Sono così, sono bellissimi, ragazzi Ok Anche questo, ragazzi, guardate qua E Questo qui Vabbè, dai ragazzi Mi raccomando Speriamo che il video Speriamo che il video vi sia piaciuto Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale E ragazzi, mi raccomando Mettete un super grazie Ciao raga